Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su Weisach Channel, abbiamo visto tutti quello che è successo a Parigi, l'incendio della cattedrale di Notre Dame, video e immagini purtroppo già iconici e che rimarranno a lungo nella memoria collettiva, un evento apparentemente che dovrebbe in qualche modo essere univoco da un punto di vista dell'interpretazione, quello è successo e non è che ci sia tanto da dire, è una chiesa molto importante che ha preso fuoco, in realtà suscita uno spettro molto molto vasto di reazioni e secondo me l'ampiezza di questo spettro letteralmente, possiamo definirlo uno spettro emotivo, è la cosa più interessante di cui parlare intorno a questo disastro, sul disastro in sé non è che ci sia molto da dire, basta aggiornarsi e leggere i report, sembra che nella sfortuna le cose non siano andate così male, molte stature hanno state già spostate per facilitare il restauro, il restauro e le impalcature che sembra siano alla base dell'incendio erano situate nella parte posteriore della chiesa, quindi la facciata, la struttura sembra reggere la facciata, le torri sembrano non essere state coinvolte, un paio di vetrate, forse le due vetrate più importanti si sono salvate, altre purtroppo sono andate perdute, si vedrà i pompieri hanno fatto un grandissimo lavoro pensando, non essendoci dei civili coinvolti, a difendere le opere d'arte, sembra che i danni siano stati limitati rispetto a quella che era l'immagine terrificante, infernale, che si vedeva ieri, che faceva pensare alla perdita della cattedrale di Notre Dame, quindi in qualche modo forse le cose sono andate meno peggio di quello che sembrava, tuttavia siamo stati tutti molto coinvolti da un punto di vista emotivo, e questo è interessante proprio perché non dovrebbe esserci nulla da dire, invece ciascuno ha avuto tantissime cose da dire, e soprattutto la reazione, di ciascuno di noi ad un evento come questo assomiglia molto ad una chiamata alle armi, un evento che non dovrebbe essere in nessun modo divisivo, in nessun modo complesso, in realtà ci porta a reagire politicamente a qualcosa che non dovrebbe esserlo, ma che in realtà non può non esserlo, e quindi l'abbiamo visto sui social network, dai più grandi influencer a tantissimi amici nostri, persone private, diciamo così, sentire in qualche modo la necessità di dire qualcosa, in qualche modo di schierarsi, di esprimere la propria opinione articolata intorno a un evento che non è soltanto l'incendio di una chiesa, perché quella chiesa rappresenta tantissime cose diverse, ed è al cuore di tantissime questioni diverse per la nostra epoca, per la nostra politica, per il nostro vivere in società, possiamo ben dire così, dal mio punto di vista, è meglio che dica la mia, dal mio punto di vista è stato molto molto traumatico, sono immagini estremamente, io amo molto la città di Parigi, ho avuto la fortuna di andarci tantissime volte, tante volte sono andato a Notre Dame, è stato tremendo vedere quelle immagini, ovviamente la cosa che mi ha fatto venire una grandissima tristezza, perché poi penso che sono immagini semplicemente molto tristi, è stato pensare al patrimonio artistico, l'idea che un simbolo così importante della nostra storia dell'arte sia stato così violentemente danneggiato, Notre Dame non è soltanto un'opera d'arte che contiene opere d'arte, ma è anche un'opera d'arte che ha generato opere d'arte, da Victor Hugo in poi, quindi è un simbolo molto molto forte nella storia dell'arte, e che per tantissime persone è un punto di sensibilità, molte persone invece hanno avuto la necessità di fare, come si dice a Bologna in francese, diremmo di fare gli sboroni, cioè di ostentare indifferenza chiamandola in qualche modo coerenza, non ti interessava nulla, non avevi il pensiero rivolto a Notre Dame dieci minuti prima che bruciasse, e ora fingi di essere dispiaciuto e quindi sei un ipocrita, che è una cosa che non sta né in cielo né in terra, non è che uno deve essere accuratamente preoccupato per qualcosa 24 ore su 24, per considerarla una cosa importante, ed è logico che in qualche modo l'importanza della Chiesa di Notre Dame acuisca da un punto di vista della sensibilità nel momento in cui la vediamo bruciare, rispetto a quando diamo per scontato che stia bene e che non le stia succedendo nulla di male, ma anche la necessità da parte di molti di ostentare indifferenza, di accusare chi ha invece esposto la propria emotività, accusarli di ipocrisia, anche questo è rispondere alla chiamata alle armi che un simbolo così importante in fiamme esercita su quasi tutti noi, quindi questo secondo me da un punto di vista semiotico rimane la cosa più interessante. Ovviamente non è soltanto Notre Dame un simbolo da un punto di vista dell'arte e della storia dell'arte, ma è un simbolo importantissimo da un punto di vista religioso, quindi per una persona sensibile alla religione, una persona che crede, ovviamente quello è un simbolo della cristianità, quindi senz'altro è una fonte di dolore vedere un incendio come quello, e quindi c'è ovviamente un fortissimo richiamo identitario, perché per molti la cristianità fa parte della propria identità, o per alcuni dell'identità europea, o comunque è un elemento dell'identità europea, o dell'identità francese, o soltanto Notre Dame è il vero simbolo di Parigi, molto più sentita dalla città della Tour Eiffel, molto più storica ovviamente, con molta più storia alle spalle, e quindi è una ferita tremenda per una città così grande, così importante come Parigi, che è una città importante non soltanto per i parigini, che è la capitale della Francia, la Francia è uno dei cuori dell'Europa, forse è il cuore dell'Europa, capite quante cose ci sono in mezzo, e quanti livelli simbolici sono coinvolti da quell'incendio, che diventa ovviamente al centro di un discorso di identità, e quindi un discorso di scontro fra identità differenti, dobbiamo piangere per Notre Dame perché dobbiamo difendere la nostra appartenenza identitaria ad una cultura, che sia la cultura europea, e allora europeista, che sia la cultura francese o che ne so io, che sia la cultura occidentale versus qualcuno, esiste già il contrasto con altre culture da un mero incidente di totale sfortuna, si crede, assolutamente colposo, che in realtà non ha nulla di conflittuale in sé, eppure risveglia molti messaggi e ostentazioni che sono molto conflittuali, anche tra le righe, anche di nascosto, anche senza farsi troppo accorgere, come dire, lo vedi, sta bruciando la cattedrale, quindi tu sei chiamato alle armi, davvero sei chiamato alle armi dell'appartenenza culturale, questa è la tua cultura che brucia, se non le appartieni devi essere contento, se le appartieni allora adesso le appartieni anima e cuore, perché Notre Dame sta bruciando, sono tutta una serie di sofismi che vediamo fatti su internet, che vogliono tirare gli altri per la giacchetta e cercare di dare un peso politico, cercare di trasformare un incidente, per disastroso che sia, in un'argomentazione politica, in un richiamo identitario, ovviamente non è una cosa campata in aria, perché Notre Dame è un simbolo identitario di tantissime identità diverse, e questo non significa però che la nostra debba essere un'appartenenza dogmatica, questo non significa che la nostra sensibilità debba essere convertita in un'appartenenza, semplicemente è un disastro per il patrimonio artistico dell'umanità, non soltanto dell'arte occidentale, il discorso religioso ovviamente è soltanto di qualcuno, è soltanto per chi ci crede, e abbiamo già le follie, quella croce d'oro che è rimasta ovviamente intatta, abbiamo già discorsi di miracoli, e c'è già chi ci ha visto chissà che cosa di mistico, e vabbè fa parte del gioco, in questi casi non potevamo aspettarci nulla di diverso, non mancano ovviamente le follie legate ai complottismi, le statue nella parte posteriore che erano state rimosse, e quindi è stato tutto premeditato, no, semplicemente fai un restauro, e se le puoi spostare per non danneggiarle lo fai, ma figuriamoci se non c'è dietro una macchinazione gigantesca, la cosa veramente bella da un punto di vista della semiotica è proprio vedere come ciascuno entra in gioco con la propria emotività, con il proprio desiderio di risaltare grazie ad un avvenimento di questo tipo e di posizionarsi rispetto ad esso. Il discorso di fare i duri, di fare gli indifferenti, o di cercare di in qualche modo approfittare dell'emotività esposta degli altri per deriderla, è un discorso che si è visto a tantissimi livelli. Il discorso più sciocco, più stupido, onestamente, che ho visto fare è stato quello di dire non mettiamoci dentro chissà che cosa, è solo una chiesa che brucia e il lavoro di restauro che arriverà e non è altro che questo, col cavolo che non è altro che questo. I simboli hanno una valenza gigantesca, ricordiamoci l'11 settembre, per chi si ricorda bene come me dove era, eccetera, eccetera, l'11 settembre naturalmente fu una tragedia più grande per le persone che sono morte, eccetera, ma era ovviamente un evento così importante per ciò che rappresentava simbolicamente. In qualche modo qui non c'è il dolo, si pensa, ovviamente, ma quello è un simbolo identitario molto forte e per molti c'è il cuore in gioco, non è strano che ci sia, non è solo un edificio che prende fuoco, su questo non c'è dubbio. È logico che ognuno ha la sua... Immaginate un esperto di storia dell'arte che sa a memoria, pensate a una guida o qualcuno che è veramente legato alla città di Parigi, che sa a memoria tutto quello che c'è dentro quella cattedrale o legatissimo al musical, che ne so io, a Victor Hugo, eccetera, immaginate quanto più stratificato e profondo sarà il suo dolore e il suo dispiacere e il suo coinvolgimento emotivo, no? E quindi tu hai quella finestra temporale nella quale per qualche ragione, per qualcuna di queste ragioni, tu stai soffrendo e senti che ti viene voglia, vado ad aiutare, vado a fare qualcosa, poi in realtà questa finestra si chiude, anche perché questo poi è quello che accade in queste narrazioni. Il momento del fuoco di questa immagine così forte da un punto di vista simbolico un pochino alla volta si spegne letteralmente e inizia già a normalizzarsi, le cose rientrano nei loro confini anche da un punto di vista emotivo, però magari stai ancora litigando perché qualcuno ti ha tirato fuori il fatto che devi appartenere a qualcosa perché è quella che esabrucia e tu gli cerchi di argomentare che non è così e quindi il delirio ha già preso il sopravvento sul fatto, fatto in sé che non possiamo considerare senza le nostre interpretazioni, senza tutta la coltre culturale che ci separa dalle cose e che in qualche modo è sempre l'occhiale che noi indossiamo. Rispetto alla realtà è l'occhiale della neutralità e dello sguardo zen che non appartiene a nulla e che di nulla si lascia coinvolgere in realtà è un occhiale che nessuno ha mai indossato ma molti hanno millantato di farlo, su questo non c'è dubbio. La cosa interessante secondo me è considerando il patrimonio artistico coinvolto è la natura effimera dell'arte, dell'uomo, del suo patrimonio e anche delle identità stesse. Vedendo bruciare Notre Dame vediamo bruciare qualcosa che consideriamo eterno e che sicuramente sarà ri-eternato ma capite che non è la stessa cosa da un lavoro di restauro che potrà godere già di grosse donazioni filantropiche ma la cosa che mi interessa è che mi interessa dire sempre un discorso molto afferente alla semiotica la cosa che mi interessa dire è questa Notre Dame noi la conserveremo la restaureremo la ristruttureremo eccetera eccetera faremo in modo che sopravviva che ci sopravviva attraverso i tempi insomma mai dire sempre però cercheremo in tutti i modi di far sì che questo simbolo così importante per una città così importante vada avanti e vada dritto per la sua strada ma anche nessun incendio la coinvolga mai più anche le cose vadano bene anche un impossibile ovviamente restauro perfetto probabilmente si tratterà anche di ricostruire molte cose e chissà che poi in qualche modo non si possa fare qualcosa di più bello di prima questo non ci interessa anche in tutto questo in realtà il simbolo identitario non farà che mutare nel tempo non farà che cambiare il suo significato perché l'oggetto fisico la chiesa la cattedrale non prendiamo Notre Dame che è appena bruciata prendetene qualunque altra che è ancora in piedi e sta benone rimarrà fisso ma tutto l'universo di interpretazione e di significati che è il suo veicolo continuerà a cambiare a cambiare a cambiare intorno ad esso e la Notre Dame fra 500 anni sarà una cosa completamente diversa anche se saremo riusciti a renderla identica da un punto di vista fisico in qualche modo impossibile a quello che è adesso proprio perché l'universo culturale intorno ad essa ed essa stessa facendone parte continua a cambiare e quindi da un lato ovviamente sentiamo una parte della nostra identità sentiamo di appartenere ad un mondo nel quale Notre Dame è un simbolo molto importante ma al tempo stesso sappiamo che queste identità culturali sono storiche e non fanno che mutarsi e mutano in modo molto più repentino e imprevedibile di quanto può farlo un incendio al quale probabilmente con il giusto budget sarà addirittura possibile rimediare quindi in realtà è anche commovente se volete vedere quanto attaccamento c'è in gioco vedere quanta ingenuità in qualche modo anche comprensibile c'è intorno al concetto di identità e al concetto di appartenenza e vedere come gli animi che si scaldano in seguito ad un evento come questo mettano in realtà in luce le tante illusioni dell'uomo della sua persistenza in qualche modo che però anche qui mai dire sempre ma mai dire mai ma non solo della persistenza culturale tutto ciò che è cultura e Notre Dame è cultura più che struttura fisica dell'edificio naturalmente tutto ciò che è cultura non è persistente nel senso di non è immutabile non è in nessun modo stabile e cambia ad ogni istante in questo momento e questo evento hanno mutato ulteriormente le interpretazioni che danno significato alla chiesa di Notre Dame capite l'hanno mutata più di quanto può avere fatto l'incendio e tutto il lavoro che faremo per cercare di vanificarne l'opera distruttiva questo secondo me è davvero davvero interessante vedere come molte persone si aggrappano ai simboli commettendo un gravissimo peccato di ingenuità pensando che i simboli le icone in qualche modo siano qualche cosa di fisso di stabile sono esattamente il contrario sono segni sono frutto di un negoziato incessante che non finirà mai e che a dispetto di una diciamo così stabilità che non c'è assolutamente dell'oggetto fisico mutano 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 e continuano a cambiare e le nostre identità continuano a cambiare quindi speriamo bene che i danni a Notre Dame siano minimali speriamo che ricostruiscano tutto nel miglior modo possibile anzi che dopo sia ancora migliore di prima ma rendiamoci conto che ci aggrappiamo a qualche cosa di fisso che fisso non è che è estremamente mutevole e che fa parte di un costrutto storico che è la nostra cultura che rinegoziamo da mattina a sera e all'interno del quale i simboli e le icone più importanti variano e cambiano costantemente in tutto questo come si fa a non pensare io ci ho pensato immediatamente a quella che è un'altra icona potentissima un'altra immagine simbolica tremenda che abbiamo avuto di recente forte fortissima che è quella del buco nero che ovviamente non è una fotografia scattata così è un'elaborazione del contributo di tantissimi telescopi insomma andatevi a leggere che la cosa è abbastanza complessa ma è un'immagine reale quello è davvero un buco nero quello è davvero l'intorno di un buco nero dall'orizzonte degli eventi non potranno uscire informazioni ma in ogni caso è un'immagine storica è così importante ed è così diversa rispetto all'immagine di Notre Dame perché Notre Dame ci mostra da un lato ovviamente la natura quasi effimera di ciò a cui siamo così fortemente aggrappati ma ripeto sono più effimere le interpretazioni che addirittura il legno che ha preso fuoco in un attimo mentre il buco nero in realtà ci mostra come la cultura scientifica l'impresa scientifica faccia qualche cosa di diverso di ciò che può fare la storia delle religioni dell'arte della politica eccetera fa qualche cosa di molto fortemente direzionato al mondo reale e tutto ciò che era soltanto teoria purtroppo un anno dopo la scomparsa di Stephen Hawking in realtà è realtà e quella realtà per quanto già super interpretata per quanto nel momento in cui abbiamo visto l'immagine del buco nero avevamo già in testa tutti i meme che sarebbero saltati fuori per quanto tutto ciò sia sicuramente valido stiamo andando verso la comprensione di quello che sta sotto a tutte le nostre infinite negoziazioni di significati di valori di emozioni in gioco e quindi è un'immagine molto molto differente quella del buco nero la cattedrale di Notre Dame ci mostra spesso la vanità delle nostre passioni soprattutto intorno all'evento che abbiamo visto l'immagine del buco nero in realtà ci mostra che certamente sempre fra noi e lui ci sarà sempre una coltre interpretativa ma attraverso i dati attraverso la ricerca e attraverso l'impresa scientifica siamo un pochino più vicini all'oggetto che sta sotto le interpretazioni non lo tocchiamo veramente mai ma grazie ai feedback che riusciamo ad avere attraverso il metodo scientifico stiamo studiando la realtà e quindi lì c'è una potenza totalmente diversa in quell'immagine di mezzo la storia e la natura dell'uomo saranno effimere saranno eterne il progresso riuscirà sempre ad accompagnarci in qualche modo ad emanciparci via via da quello che dovrebbe essere il nostro destino prima biologico poi di sistema solare eccetera non lo sappiamo non ne abbiamo la più pallida idea per quello mai dire mai e mai dire sempre stiamo a vedere cerchiamo di partecipare all'impresa collettiva non possiamo non partecipare all'impresa collettiva del senso non possiamo non partecipare all'impresa collettiva delle interpretazioni e vediamo quanto siamo sensibili ad essa perché ogni volta che c'è una chiamata alle armi del senso come l'incendio di Notre Dame quante emozioni in gioco quante cose ci sono intorno eppure sotto c'è anche la realtà fisica ma non si studia discutendo su internet discorso al quale abbiamo già accennato altre volte ditemi un po' che effetto vi ha fatto che cosa ne pensate di quello che è successo soprattutto delle reazioni che abbiamo visto perché ovviamente quando succedono eventi così forti emotivamente sembra che ci siano persone che traggono il loro piacere nel cercare di disgustarne il maggior numero cerchiamo di accettarlo per quello che è per il resto ragazzuoli grazie per aver seguito il film qua penso di essermi davvero dilungato ci vediamo al prossimo video